Saldi da non perdere da Florenzi Casa. 60 ambienti e più di 1000 articoli con sconto fino al 60%. Adesso puoi risparmiare davvero, non gli spiccioli, ma tante migliaia di euro. Cucina classica con anta in legno in saldo al 60%. Soggiorno effetto marmo sconto 60%. Cameretta completa, finitura verde e gialla in saldo al 60%. Noi ti aspettiamo a Dolmi di Quarrata anche la domenica pomeriggio. Florenzi Casa, arreda le tue idee.